Lorena Bianchetti torna sul Rai 1 al timone di a sua immagine lo storico programma nato dalla collaborazione tra la RAI e la conferenza episcopale italiana un racconto che parte da un denominatore comune la fede e si declina attraverso le storie di persone comuni famiglie e comunità ma noi portiamo al centro la persona umana tutta nella sua interezza in tutte le sue sfaccettature e chiaramente una trasmissione della RAI in collaborazione con la conferenza episcopale italiana quindi questo ci richiama ancora di più ad avere un occhio attento per chi solitamente non ha voce quindi per tutte quelle periferie per tutte quelle persone che solitamente non stanno alla ribalta dei grandi media. Un programma che offre come sempre uno spaccato di vite vissute pienamente con un occhio all'altro al prossimo e al lavoro per una società migliore svolto quotidianamente dalla grande comunità della chiesa cattolica. Come sempre con ospiti in studio? Assolutamente il sabato in una vesta assolutamente rinnovata perché il sabato faremo dei faccia a faccia l'abbiamo definito occhi negli occhi e quindi un programma in cui cercheremo di andare un po' nel profondo delle anime delle persone che non sono necessariamente credenti ma sono persone che hanno comunque un umano da raccontare e in qualche modo anche da insegnarci.